A Pineto nasce GAP, Generazione Attiva Propositiva, un'associazione per far avvicinare ancora di più i giovani alla politica. Sì esatto, proprio come dicevi tu, è un'associazione nata per far avvicinare i ragazzi alla politica. I ragazzi che trovano sempre più difficoltà ad avvicinarsi ai classici partiti, quindi noi abbiamo creato questo nuovo contenitore, che è un'associazione pluralista, aperta a tutti, senza discriminazione di partito, di colore politico. Infatti all'interno ci sono ragazzi di varie idee, ma questo serve appunto per confrontarci e per far sì che una nuova generazione di ragazzi si avvicini a quella che è la politica, la vita amministrativa del paese. Ecco, le lettere G, A e P hanno un significato e stanno sicuramente a significare qualcosa. Sì, allora, lettera G sta per generazione, perché pensiamo che a Pineto, così come in altri paesi, ci sia un problema generazionale. Mancano politiche giovanili, così come manca un coinvolgimento attivo dei ragazzi. Proprio per questo abbiamo la G. La significativa, perché noi potremmo benissimo stare al bar, al ristorante, a casa, lamentarci delle cose che non vanno, ma non fa parte del nostro DNA, quindi abbiamo voluto impegnarci attivamente e riunirci per proporre progetti. E proprio da qui la P di propositiva, che è quello che ci identifica un po' di più, perché dopo tutta la discussione, dopo tutti gli incontri fatti con cittadini, l'associazione di categoria ed altri enti territoriali, andremo a proporre delle iniziative, dei progetti che speriamo appunto possano essere condivisi e approvati. Ecco, l'associazione è fatta interamente di giovani. L'associazione è fatta interamente di giovani, sì, non c'è nessun limite di età, però di persone che fino adesso non si sono avvicinate alla politica, che hanno idee, però non si sono mai approcciate a questo mondo. E quindi vogliamo rendere la politica, così come l'amministrazione, così come la cura della cosa pubblica, non un qualcosa che è per pochi, ma aperto a chi fino adesso non si è avvicinato.